Musica Siamo al Carton Baglioni alla conferenza stampa di Madmood, con noi è qui presente Luna Berlusconi. Promuove la sua arte e la realtà di tutto il mondo delle donne curvi. Ci puoi dire cosa ne pensa di questo mondo? Beh, quando mi è stato proposto di partecipare alle sfilate di Madmood, dove avrebbero poi sfilato anche delle donne curvi, mi sono entusiasmata perché credo che la donna possa avere una sensualità al di là della perfezione delle curve. I problemi poi legati al cibo, alla salute, questi sono altri discorsi che dovrebbero in questo momento, in questo contesto, prescindere ovviamente. Quindi è stato un esperimento interessante per me, proprio perché ho reso bella una donna non perfetta, ma in abbondanza. E ho dimostrato che la sensualità viene da dentro e non dalla perfezione, da quello che ci raccontano pubblicità, media, televisione, che purtroppo sono anche di cattivo esempio per i nostri figli. Perfetto, grazie mille e non vediamo l'ora di vedere la sua opera. A presto. Grazie mille e non vediamo.